ecco già tutta bella già tutta bella ragazzi in certi miei miei video io farò l'allinamento e qui siamo qui con leo ciao qui possiamo ammirare le arti di luca mettete like se anche voi sapete costruire così c'è anche se non sapete ma comunque dovete obbligatoriamente mettere like se volete giocare con anche con luca e ma ora ragazzi qua fate almeno 5 like in questo video farò giocare leo con la playstation con tutti i miei iscritti in cartina per favore iscrivetevi e anzi mettete 5 like per favore e faremo un video forse ma se sentite una voce di un bambino è il mio cugino vabbè velocissimo costruire se vedeste la sua faccia questa era stata una sedia sembrava qualcos'altro ma era una sedia tranquilli non avviate paura qui adesso luca ammirete luca che distrugge tutto buon buona visione fai vedere bene luca cosa succede guardate raga è stato velocissimo ci avrà messo ci ha messo tre minuti e cinque secondi per distruggerla costruisce ancora hai mai fatto vedere la tua faccia in un video no che non voglio strana te lo vogli io si ma non so come che ha bisogno installare o cosa io faccio prima guardare allora ragazzi voi iscrivetevi e dite ai vostri amici di iscriverete che io lunedì iscrivervi per lunedì faccio giocare la nonna a blue stars per i 25 iscritti non hanno un po di 30 sono 26 per i 30 giochi tu e per i 5 no allora per i 5 like di questo video gioco alla play sito con gli iscritti e sennò quando arriviamo 26 sono fan delle partite si adesso vi farò vedere come con la mira vabbè io sto giocando tenendo il telefono e muovendomi in questo caso luca appena spaccato una parete e vedete mi ha ucciso visto sembra che la botta le in bot ma non ce l'ha vero dico io guardate guardate come lo becca io sono bravo solo con un'arma con un minigame push on bot proviamo dall'alto scusami ma qui c'è il danno di caduta ovviamente questa cosa non avremmo mai potuta fare su una partita perché ci sono i player allora raga sto rompendo tutto adesso voglio giocare anch'io posso provare anch'io la raga lasciate like iscrivetevi al canale sì che ci vediamo nel prossimo video per oggi è tutto ciao ciao ciao